Un sistema innovativo per la sicurezza sismica degli edifici è stato presentato da Tecnopolo Abruzzo presso la sala IRTI ad Avezzano, comune all'avanguardia per gli edifici sicuri. Il sistema SHM Board si basa su una tecnologia elaborata, creata dalla società West Aquila, spin-off dell'Università dell'Aquila con il Tecnopolo Abruzzo ed è stato illustrato a tecnici ed esperti. Roberto Romanelli, direttore del Tecnopolo Abruzzo, intanto cos'è il Tecnopolo e poi entriamo nel merito di questo progetto del quale voi siete stati ideatori. Allora il Tecnopolo d'Abruzzo oggi è una delle realtà produttive e tecnologiche più all'avanguardia d'Italia. È uno dei cinque hub che è stato oggetto della sperimentazione del 5G a suo tempo, è uno dei pochi hub che è della casa delle tecnologie emergenti. Oggi è l'hub che vede in esso circa 42 realtà da sette nazioni diverse. Oltre a questo vi è un grande mondo della ricerca, ricerca che è rappresentata dal vero cuore di questo grande hub produttivo. Considerate che parliamo di un hub di circa 20 ettari, interamente recintato, protetto, dove al di dentro ci sono delle società sottoposte anche a Golden Power in quanto estremamente sensibili anche a livello nazionale. E il vero cuore, che dicevo poc'anzi all'occhiello, è l'università. Noi dieci anni fa abbiamo creduto molto all'Aquila ed in Abruzzo nella ricerca. Una ricerca formata e fondata soprattutto dal corpo docente, quindi dalle università e degli spin-off. Oggi questa ricerca, con un combinato disposto rappresentato dalle start-up e dal mondo dell'industria, ha creato molti progetti. Questi progetti oggi, fortemente tecnologici, sono a supporto della cittadinanza. Ebbene, oggi ci troviamo qui ad Avezzano, grazie al sindaco di questa bellissima città, sindaco molto attento a quelli che sono i fabbisogni, soprattutto relativi alla sicurezza, e non a caso proprio a Avezzano. Che cosa stiamo presentando oggi? Oggi presentiamo un sensore, si chiama sensore SHM Board. È un sensore che viene posizionato sulle infrastrutture. Il sindaco di Avezzano le ha voluto mettere in luoghi sensibili, quali appunto le scuole dove sono bambini, dove ci sono ragazzi, dove ci sono magari lo stesso comune che magari rappresenta anche il centro di emergenza, qualora ci fossero, speriamo mai, delle calamità. E che cosa fa questa sensoristica? Questa sensoristica, H24, 365 giorni l'anno, monitora lo stato di salute di un immobile. Quindi verifica come sta e soprattutto quale è il movimento che lo stesso può aver avuto. Movimento che può riguardare le sue fondamenta, che può riguardare un sovraccarico, la vetustà dell'immobile o addirittura a seguito di eventi sismici. Non a caso siamo davanti ad un plastico che rappresenta proprio che cosa è successo qui a Avezzano, ma noi da Tecnopolo d'Abruzzo siamo figli comunque della stessa terra. Ha avvenuto lo stesso nel 2009 e dal 2009 l'Università dell'Aquila, per esso uno spin-off che poi presenterà questo progetto, ha fatto un grande studio. Studio combinato con il mondo dell'industria e ha creato questa sensoristica che permetterà in tempo reale a dire come sta un determinato immobile. Considerate quindi l'importanza di questa tecnologia e l'importanza che rivestono ormai questi grandi hub tecnologici a servizio della gente e delle collettività. Il Tecnopolo d'Abruzzo rappresenta questo e lo rappresenta in una forma cosiddetta 5.0, perché noi affianchiamo le aziende presenti e facciamo una sorta di filiera, quindi vi è l'università o lo spin-off che ha fatto una ricerca, vi è la società che realizza, vi è una società che installa, quindi la filiera diventa una filiera virtuosa, dove chi si rivolge al Tecnopolo d'Abruzzo trova una risposta su quelle che sono le necessità. Oggi è questo sensore, ma poi ci saranno dei sensori che stanno uscendo relativi al fuoco, quindi agli incendi boschivi che allertano in tempo reale quando sta propagandosi il fuoco, e quindi questo è il Tecnopolo e questa è la tecnologia di oggi. Ecco, vorrei sottolineare ancora una volta che non è solo per un discorso legato ad un evento sismico, questo monitoraggio è utile, come lei ha già detto, per mille situazioni. Sì, decisamente come lei ha ben compreso. Questa sensoristica si presta a controllare lo stato di salute della struttura, quindi controlla la struttura da un punto di vista statico, quindi la staticità può essere messa a rischio di N fattori. In primis, appunto, una scossa tellurica, da un sovraccarico, spesse volte ci troviamo in strutture che non sappiamo che cosa c'è sopra la nostra testa, soprattutto quando sono più piani. Gli esempi più importanti sono stati su Roma, magari, dove condomini avevano provveduto ad arredare in una certa maniera magari le proprie terrazze e poi sono venuti giù, quindi sono raccarichi. Stessa cosa per quanto riguarda le lavorazioni che un palazzo potrebbe ricevere nelle prove fondamenta, immaginiamo le grandi città, le metropolitane, o anche nelle piccole città, i sottoservizi. Ebbene, tutti questi movimenti vengono ad essere registrati e se oggetto di alert partirà un warning che allerterà l'RSPP o chi per esso. Stessa cosa per quanto riguarda la vetustà degli immobili. Non sempre le amministrazioni comunali hanno ai noi denari per poter mettere in sicurezza i propri immobili. E anche lì questa sensoristica si presta bene, perché questa sensoristica dirà in tempo reale ad un sindaco, ad un responsabile di un tronco autostradale, ad una strada, se quell'immobile, se quell'infrastruttura, in quel determinato momento è in linea con le aspettative strutturali. Quindi pensiamo al dissesto idrogeologico di cui sentiamo spesso parlare, pensiamo ai viadotti. Quindi questo progetto ambizioso, mirato al futuro, parte dall'Abruzzo ed è pronto ad andare oltre? Questo è un prodotto che è figlio dell'Abruzzo e già proiettato oltre. E' stato impiegato molto nel 110 nei condomini. Oggi viene ad essere assunto in molte lavorazioni pubbliche, immaginiamoci le ATER, le ALER. I tronchi stradali ed o stradali, immaginiamo i viadotti. Considerate sempre che ad oggi la visione di queste infrastrutture sono eccessivamente costose, in quanto uno dovrebbe visionare pilone per pilone con delle infrastrutture o superficiali, purtroppo affidate a quello che può essere la vista dell'uomo. La tecnologia supporta tutto questo. Siamo andati oltre, tant'è che noi il 4 di novembre saremo ad Abu Dhabi, dove presenteremo questa tecnologia con tutte le autorità locali di quel paese, i quali hanno problemi enormi con il vento, con il calore, quindi loro hanno delle torri molto alte che devono in qualche modo monitorare. Ebbene, da questa terra che è figlia di determinate situazioni, ma che hanno formato sostanzialmente la nuova generazione, per poter portare questa tecnologia in tutto il mondo. E quindi stare oggi ad Avezzano per la nostra storia, perché Avezzano è la nostra storia, ci fa veramente piacere. Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pancrazio, siamo qui davanti a un plastico molto significativo, che in qualche modo ci fa capire l'importanza del progetto che si sta presentando oggi. Beh, sì, questo plastico rappresenta Avezzano prima del terremoto, che fu completamente distrutto. Ecco perché la nostra amministrazione si è basata fortemente sulla sicurezza. Siamo partiti con la sicurezza scolastica, abbiamo le scuole più sicure del centro Abruzzo, abbiamo poi lavorato sulle porte antisismiche e poi adesso stiamo presentando un progetto veramente rivoluzionario che sono dei sensori che abbiamo già messo in alcuni edifici pubblici e in alcune scuole per monitorare qualsiasi movimento possa essere rilevato dalle mura. Questo grazie anche a una società specializzata che fa capo alla Tecnopolo e che in qualche modo ci ha anche aiutato a poter prevenire e completare questo nostro sistema di sicurezza. Noi abbiamo forse fatto un'opera poco forse vantaggiosa da un punto di vista del consenso sui sottopassi, perché qualche critica c'è stata, ma l'abbiamo voluto fare per mettere in sicurezza i cittadini di Avezzano. Ecco perché ci teniamo molto al sistema sicurezza che parte appunto dalle scuole sicure, edifici sicuri, porte antisismiche e adesso abbiamo messo proprio la ciliegina sulla torta con questo sistema di monitoraggio che è un sistema veramente all'avanguardia in Italia. Ovviamente quando si parla di sistema di prevenzione significa anche salvare vite e soprattutto, ma anche salvare edifici importanti. E' proprio questa rappresentazione. Avezzano è rimasto un solo edificio non distrutto dal terremoto e da lì siamo partiti, è partita la mia amministrazione. Ecco perché abbiamo le scuole più sicure per rendere Avezzano attraente, abbiamo i ponti rimessi in sicurezza e abbiamo poi alimentato questa sicurezza negli edifici pubblici e nelle scuole proprio attraverso questo sistema che, come ho detto prima, rileva qualsiasi movimento che possa essere rilevato appunto dal... pure dai giochi dei bambini, sia statico che sulla vulnerabilità sismica. Quindi è una tecnologia molto molto avanzata che penso, ecco, siamo partiti con alcune scuole, come ho detto prima, e con edifici pubblici, ma lo estenderemo a tutti gli altri edifici scolastici della città. Vogliamo Avezzano? Sicuro. Vogliamo che i nostri figli stiano in sicurezza, vogliamo che i nostri cittadini dormano, sonni tranquilli, stando in sicurezza. Ingegnere Stefano Tennina, amministratore di West Aquila SRL, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce nel 2009 a seguito del terremoto dell'Aquila e noi siamo una ditta, West sta per Wireless Embedded System and Technologies in L'Aquila, siamo uno spin-off dell'Università dell'Aquila e ci siamo chiesti come possiamo sviluppare un sistema per rendere le strutture più resilienti o comunque monitorare le attività che possono rilevare un sisma e eventuali danni a seguito di questo sisma. E quindi, la domanda semplicissima, come funziona questo sistema? Il sistema è basato su delle schede che noi abbiamo progettato e sviluppiamo, che si chiamiamo SHM Board, sono delle schede sostanzialmente fornite di un accelerometro come sensore di base e tutti i dati che rileviamo dalle accelerazioni vengono poi elaborati dai nostri algoritmi per andare a monitorare nel tempo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'evoluzione del modo di vibrare di ogni struttura per capire se c'è un degrado nel tempo o, a seguito ad esempio di un evento che può essere sisma, se c'è un danno che richiede l'intervento di uno strutturista che noi poi possiamo notificare. Quindi una volta individuato questo problema, il passaggio successivo? Il passaggio successivo riguarda sostanzialmente la possibilità di raccogliere questi dati, estrapolarli, analizzarli e fornirli a uno strutturista che poi dovrà effettivamente interpretarli per capire se c'è un effettivo danno della struttura che quindi può richiedere l'intervento di manutenzione oppure se comunque la struttura rientra nei parametri.